Buonasera, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come sempre daremo un'occhiata ai principali quotidiani che troviamo in edicola, al volo su questo confronto saltato tra le signore non duellano, questo è il titolo dell'apertura del mattino di Puglia e Basilicata. Quello che secondo me è un punto su cui c'è da riflettere è questo. Le parole di Mattarella richiamano a un equilibrio e spesso vengono dette falsità per fomentare un clima di divisione bellico. Per esempio non è vero che questi studenti sono antisemiti, questi studenti protestano per la linea portata avanti da Netanyahu e per naturalmente anche la questione di Israele. E questo diciamo noi con i nostri inviati spesso lo raccontiamo.